E' Moto Live che regala spettacolo a profusione, concentrando nella sua arena spettacoli da terra, asfalto ed aria. Non c'è limite alla fantasia degli stunt rider che continuano ad alzare l'asticella per quanto riguarda la sfida alle leggi della fisica. E' sempre più punciante il cuore di Eikman Moto Live. Giacomo, questa è la tua creatura, sta crescendo di anno in anno, siamo al nono anno, sempre tanti spettacoli ma soprattutto una bella aria, un'aria dove ci si diverte. Sì, è il nostro auspicio, speriamo sempre che il nostro pubblico si diverta, noi lavoriamo un anno come ben sapete per regalare emozioni, poi non siamo noi ma sono i piloti in pista a regalarle. Noi ce la mettiamo tutta, stiamo invecchiando, siamo prossimi ai 10 anni, facciamo un po' più fatica fisicamente ma ci proviamo sempre. 10 anni e 100 anni per Eikman stessa. Soprattutto 100 anni di Eikman, l'anno prossimo, il 2014, sarà molto importante perché 100 anni siamo il salone più longevo al mondo e un evento come Moto Live che il figlio prediletto di Eikman compie 10 anni e per un evento di questa tipologia davvero non ci sono precedenti. E' becco lo spettacolo! E' becco lo spettacolo! Pio Francesco, tiriamo le somme di questa splendida edizione di Eikman. Le somme sono belle, sono quelle che ti piace guardare alla fine ma non tanto per quello in termini economici, il bello è che tanta gente, tanta passione, tanta emozione, modelli nuovi, insomma veramente tutto quello che ci aspettavamo e per cui lavoriamo per più di 15 mesi all'anno. Quindi siamo stanchi ma siamo veramente contenti, ci avviciniamo a un anno che sarà l'anno del centenario con un'adrenalina e con una voglia addosso incredibile. Insomma ci piace confermare ancora una volta il primato a livello mondiale di questa fiera e devo dire che tutta la gente che c'è qua intorno è grandiosa e sono loro poi che fanno la fiera, quindi tutto bene, tutto bene. Grazie. Grazie. Grazie.